Beh insomma, Silvia, mi vuoi dire che cosa ti è successo? Eh, ieri sera al mio amoroso l'avrei fatto a tutti i costi e mi aveva mica voglia. Al mio corsa dretto, al mio cantonè, al mio donna di stede e mi ha sbattuto insieme a lei. E tu? E tu cosa hai fatto? Ho detto che non avrei mai visto. E allora? La smorsa e la lusa. Grazie mille.